11 dicembre 2013 benvenuti al circolo ciriaci e la nona di campionato si affrontano i primi della ragnatela pub contro il mister Jeff che prova a recuperare punti preziosi palla per Placido che serve di nuovo Morezzi se la sposta sul destro Mauro Morezzi prende l'angolino basso dove non può nulla il portiere vantaggio ragnatela pub palla dentro verso Davello col cucchiaio ripani calcio d'angolo ora per il mister Jeff verso Morosini traversa calcio di punizione andrà Davello para il portiere e poi spazza la ragnatela pub ma Francucci ci pensa col malcino vola ripani sono gli ultimi secondi prova adesso Morosini una palla dentro la recupera ragnatela pub poi Morosini rete ma l'arbitro ha fischiato la fine del primo tempo gol annullato punizione andrà a paresce o la scarsella adesso palla gestita dalla ragnatela con Placido Placido un doppio passo di Placido brucia l'avversario fuori adesso Morosini Morosini se la sposta sul destro per Davello e pare il portiere ripani le prende tutte stasera un lancio lungo verso Marazzina che la gira di testa è l'uno pari del mister Jeff dopo tanti attacchi finalmente crolla la difesa della ragnatela pub palla dentro verso Tombesi col mancino deviato ancora Tombesi due a uno aveva appena pareggiato il mister Jeff ma la ragnatela pub che cuore pallone ancora scotellato dentro verso Davello all'ultimo respiro trova il pareggio al mister Jeff con Davello di testa e prova il tiro dalla grande istanza ragnatela pub ma cala il sipario sulla non aggiornata di serie A e due a due nel big match tra ragnatela pub e mister Jeff secondo me alla fine il pareggio è meritato perché comunque abbiamo giocato fino alla fine un campo difficile contro loro che adesso sono erano considerati imbattibili perché insomma hanno vinto tutte le partite con un po' di cuore un po' di fortuna alla fine il risultato penso comunque sia giusto buona partita partendo dal presupposto e noi veniamo da qualche vittoria di fila e ovviamente noi potevamo vincere tutte le partite perché il campionato ci sono gli avversari gli avversari ne incontriamo buoni e meno buoni questi sono una bella squadra e sono poco d'accordo sul fatto che loro abbiano creato un po' più di noi perché secondo me si hanno giocato noi abbiamo fatto quello all'inizio quindi dopo è normale che ti schiacci un po' di più però occasioni eclatanti io credo ce ne abbiamo avuto è più noi che loro no Grazie a tutti